Qualcosa è successo, qualcosa non ha funzionato, però diventa difficile e brutto essere sempre il giorno dopo a commentare episodi di questo genere e pensare a un lavoratore che è lì per mangiare e poi dopo purtroppo non possa far ritorno a casa. Marco Del Cimuto, l'operaio 33enne abruzzese di Pesco Costanzo, è morto ieri pomeriggio a seguito di un drammatico incidente mentre stava lavorando in località Le Vertighe a Monte San Savino. Si trovava assieme ad un collega della Dittasla della provincia di Chieti che fa parte del consorzio Italwork, vincitrice di un appalto per conto di Enel per il rinnovamento degli impianti. Assieme al collega avevano portato i nuovi pali per la linea della corrente da sostituire. I lavori di rinnovamento sarebbero iniziati il prossimo lunedì ma intanto la ditta si stava portando avanti scaricando il materiale. Il dramma si sarebbe consumato proprio nel corso dei lavori di movimentazione quando un palo avrebbe inavvertitamente sfiorato un cavo dell'alta tensione. Da qui una tremenda scarica che ha scaraventato il giovane a terra. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi per il 33enne non c'è stato nulla da fare, il giovane operaio è deceduto poche ore dopo all'ospedale senese delle scotte. Credo che i temi principali siano principalmente due su quali bisogna interrogarsi. Il primo è quanto questa logica della competitività e della produttività si scarica sui lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sull'insicurezza che poi genera sul lavoro. La seconda è un tema storico che è quella in questa tipologia di operazioni, quindi appalti, subappalti, contrappalti, avere anche delle leggi chiare che sicuramente non saranno sufficienti poi dopo evitare episodi di destanatura ma che dovrebbero interrogare tutte le parti su che tipo di modello produttivo si vuole adottare. Cioè un modello produttivo che si preoccupi un po' meno o molto meno del profitto e del costo e un po' di più sulla sicurezza dei lavoratori. La procura di Arezzo intanto ha aperto un'inchiesta sul corpo del giovane per il quale è stato dato il via libera per la donazione degli organi. Domani mattina sarà eseguita l'autopsia dall'equip di medicina legale di Siena. La FIOM CGL di Chieti a cui il 33enne era iscritto infine ha proclamato un giorno di sciopera a seguito della tragedia. Che cosa sia successo deve essere competenza, qui chiediamo alla magistratura, agli organi controlli di fare in fretta e di fare bene perché questo è utile anche per i lavoratori che in questo momento stanno esempiendo i lavori uguali a quello che ha provocato l'incidente. Quindi è chiaro che anche per noi è fondamentale sapere che cosa. L'importante è che non dovrebbero succedere.